E' davvero toccante rivedere anche a distanza di qualche giorno queste immagini dell'ordinazione episcopale a Perugia del nostro direttore Don Ivan Maffeis, eletto consacrato arcivescovo di Perugia, città della Pieve. Sono immagini scattate dal nostro fotografo Gianni Zotta, grande amico anche del nostro ex direttore. Le offriamo in un inserto di otto pagine in edicola oggi con Vita Trentina, un documento da collezione perché riporta i passaggi più significativi di questa giornata ma anche quasi integralmente gli interventi principali e poi i commenti, le interviste, le valutazioni su questo passaggio di comunione fra due chiese, un numero da collezionare a ricordo di questo pastore trentino donato all'Umbria nel solco di Monsignor Nicolini, il Vescovo di Villazzano, che fu pastore a servizio degli ebrei ad Assisi.